e lì la tua intenzione ti aiuta perché la tua intenzione ha messo al primo posto il tuo stato di coscienza. La tua intenzione ha messo al primo posto il sapere la verità di chi sei. E' quello che ti aiuta, quello viene prima di qualunque cosa tu stia facendo in questo momento perché qualunque cosa tu stia facendo in questo momento è una forma temporanea. Fra qualche tempo non te ne ricorderai neanche più di questa cosa che stai facendo in questo momento. Quella forma che adesso sembra così importante in questa fibrillazione del fare non importerà per niente. A volte passa solo qualche ora e, ah sì, che cos'è che ho fatto stamattina? Eppure quando la facevamo ed eravamo frenetici nel completarla prendeva il posto del valore più alto che abbiamo che è quello di essere consapevoli che è quello di conoscere noi stessi che è quello di vivere ciò che realmente siamo la verità di ciò che siamo nessun fare vi darà mai la verità di chi siete e non è quello di vivere ciò che siamo